Ciao ragazzi, io sono Oli Kudo, benvenuto in questo nuovo video. Allora, in questo video andiamo a parlare di guerra. Andiamo ad analizzare la stessa parola guerra, ma prima di farlo ho perso altri 3 iscritti ieri, sono calato a 2060 e questo conferma i miei timori. Che penso che arrivano a 0 iscritti probabilmente, in poco meno di 2 o 3 mesi. Ed è brutto, perché poi comunque è stata una fatica a assumere 2.000 iscritti con gli iscritti ricambi. Per me sconicevo gli iscritti ricambi, a me non mi faccio degli iscritti, ma il problema è che non arrivano. Ma vabbè, pazienza, vediamo come si fa la situazione nei prossimi mesi, sperando che non perdo iscritti. Quindi io in questo video parliamo di guerra, non parliamo di iscritti, devo fare un'altra vita a parte che ho in mente. Sempre se lo riesco a fare, perché devo trovare il sistema per farlo. Comunque non ci pensiamo, non mai un altro giorno. Allora, in questo video ne ho parlato della parola guerra. Molti di voi sanno che appena sentono la parola guerra, sentono subito associo la parola guerra a distruzione, uccisioni, sparatorie, sommosse, eccetera. Ma che cosa vuol dire guerra? Non ci avete mai pensato voi. Allora, per prima cosa, la parola guerra si può definire come il conflitto tra due parti o più parti. Anche la stessa parola conflitto è sinonimo di guerra. Altrettanto la parola litigio, tipo di litigio tra due compagni di scuola, quella è una guerra perché mi sto confrontando io con un'altra persona. Ci vediamo di santa ragione, chi vince se ne esce. Eppure molte volte la parola guerra è affiancata anche da altre parole, tipo prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, guerra di Corea, guerra del Golfo, seconda guerra del Golfo, per farvi un esempio. Anche la parola battaglia. Però cosa succede? La guerra influenza le battaglie, poi vi spiego meglio. Allora, quando fa sentire parlare di battaglia, è l'evento della guerra la battaglia. Ma la battaglia stessa è una guerra, capito? Tipo adesso, la battaglia delle argonne, che fa parte della prima guerra mondiale. La battaglia delle argonne è un evento che fa parte della prima guerra mondiale. Quindi quando sentite parlare di battaglia, sia associata alla guerra, però dovete fare caso che battaglia è l'evento della guerra. Che poi vabbè, il concetto di battaglia è simile alla guerra perché sempre comunque ci sta il confronto tra due o più parti nell'evento della battaglia. Questo si sa. Io ho appunto mostro parlare di guerra, infatti vi ho lasciato la parola qua, se la vedete. Ora però ci trasferiamo sul conflitto. Allora, che vuol dire conflitto? Conflitto, come già ho detto, è sinonimo di guerra. Però dove sa la differenza? Che la guerra, in pratica, è l'evento che avviene. Invece il conflitto è un evento che non avviene. Ci sono i cosiddetti conflitti diplomatici, se mai avete sentito questa parola. I conflitti diplomatici sono scambi di minaccia o crisi diplomatica. Lo dico conflitto diplomatico, o crisi diplomatica è la stessa cosa. Perché tu alla fine stai facendo una guerra, ma è diplomatica. Però in quel momento si parla di conflitto, perché il conflitto è una cosa, è una parola che definisce qualcosa che non avviene. Cioè non è che tu stai là, ti stai facendo il conflitto a fuoco. Vabbè, pure conflitto a fuoco si può dire, è vero. Però nella maggior parte dei casi, il conflitto è una parola che definisce la guerra non palpabile. Ovvero che se parli di conflitto è una cosa che sta avvenendo, però non ci sono fatti. Sono semplicemente scambi di insulti, provocazioni e roba di genere. Poi ovviamente ci sta il conflitto a fuoco, che quello è proprio fatto. Ed è a quel punto che si parla di guerra o di battaglia. E adesso ci trasferiamo sulla parola battaglia, solito. Vabbè, comunque, tornando a parlare della battaglia, voi sapete, come vi ho già detto, che la battaglia è l'evento della guerra. Sì, fa parte sempre della guerra, conflitto, no, battaglia, si può sempre definire guerra. Però la differenza ce l'ha tra guerra e battaglia. Perché la guerra è l'evento generale, invece la battaglia è l'evento che ha avuto dei risvolti positivi o negativi. Prendiamo ad esempio la seconda guerra mondiale, la battaglia di Stalingrado e di Leningrado, nella Russia, nel 1943, se vado giusto, in cui si vede la Germania invadere l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica avanza fino a Mosca, però non va oltre di 5 km. Perché la città ben difesa e fortificata. E quell'evento ha avuto un risvolto, quella battaglia di Leningrado e Stalingrado, ha avuto un risvolto per la guerra, per la seconda guerra mondiale. E quindi imparate, fiscate la testa che se parlate di battaglia non dovete associare alla guerra, parlato di battaglie dovete associare all'evento costitutivo della guerra. Gli eventi, i fatti che si sono susseguiti, le serie di battaglie che si sono susseguiti e quella è la vera guerra. Capito? Se parlate, se mettete tutte insieme le battaglie che si sono svolte diventa una guerra. Se invece parlate sicuramente di una sola battaglia è una battaglia e basta. Se però prendete tutte insieme sono serie di eventi che hanno dato vita alla guerra. Che sta primo o secondo oppure qualsiasi altra guerra che sia. E anche c'è stata anche la battaglia diplomatica se vogliamo dire così. si sta anche la battaglia diplomatica che però la tribuna è più conflitto perché già ve l'ho spiegato perché alla fine non è che ci sia un conflitto armato perché se si ha un conflitto armato allora si parla di battaglia e di guerra. Ma se si parla di conflitto il conflitto non è la guerra vera e propria. il conflitto non è niente altro che l'evento immateriale che avviene. Lo scambio di minacce o scambio di provocazioni basta un solo sbaglio che poi avviene la battaglia di conseguenza la serie di battaglie porta alla guerra e la guerra è l'insieme delle battaglie. Capito quale la differenza tra guerra, conflitto e battaglia? Bene, io con questa breve spiegazione spero che vi sia piaciuta spero che vi ho fatto luce su quello che è la guerra vera e propria la guerra è proprio brutta si sa io chiudo qua se vi è piaciuto commentate iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti iscrivetevi noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi